Oh, fratelli rossolieri e amici rivali di YouTube. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ave il nostro, un che sei nel cielo e sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, proteggili. Amen. Che cosa devi proteggere? Ma che cosa devi proteggere? Cosa devi proteggere? In questo momento Dio non può proprio aiutarvi. Soltanto voi potete farlo. Soltanto voi potete farlo. Tirando fuori l'unica cosa che vi può salvare oggi è non fare una brutta figura. Che sono le palle. La grinta, la determinazione, la cattiveria sui contrasti. L'attenzione sulle marcature e il metterci il 100% di voi stessi sul cercare di non far avvicinare l'avversario il più possibile alla porta. Ho sentito 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4. Io oggi la partita la giocherei con le palle, uno contro uno, con la fase di marcatura. Cattivo tutto a partita. Ragazzi se uno è capace di giocare a pallone, visto che qualcuno ancora ieri in live mi diceva, pure Sergio Sarugeri, il mio amico Sergio, ciao Sergio, che si è uscito fuori dicendo che il Milan alla squadra c'è a San Forte e poi mi ha risposto che gioca soltanto Magna a titolare nell'Inter. Quindi non vedo dove cazzo siamo forti. Mi chiedo dove siamo forti. Però avete una cosa che potete fare. Fare come ha fatto il Monza con l'Inter. A uomo a tutto campo, giocandosela su una contro gli uno, sulla fase difensiva, andando con i raddoppi. Ci sono vari modi che si può giocare. Ieri Conte ha giocato uno contro uno con il Napoli, gli hanno fatto le carezze, ma giocavano in un certo modo. Giocavano mettendosi su... Studiando il proprio avversario, anche sulle fasi degli angoli, si va a scegliere l'avversario che si vuole prendere. Lo si piazza, lo si punta e non lo si molla più. Lo si prende, lo si piazza, lo si punta e non lo si molla più. Lo so che sono molti più forti, sarebbe assurdo giocare uno contro uno su di loro. Ma giocare uno contro uno, naturalmente, con i raddoppi. I raddoppi. E quell'uno contro uno non deve essere in fase propositiva nostra. Noi dobbiamo semplicemente giocare nelle ripartenze facili in fase propositiva. Deve essere un uno contro uno in fase difensiva, già studiato, che li stiamo incollati. Appiccicati. Che non gli diamo tregua appena prendono palla. Pressing a uomo contro uomo, cosa che non sappiamo fare, ma almeno provarci. Poi se va male, pazienza. Non sbilanciati davanti. Quando si prende palla, si rientra tutti a riccio. No, al riccio non vuol dire davanti alla porta. Nella nostra metà si rientra riccio bloccando gli spazi, bloccando le verticalizzazioni loro, non prendendo contropiedi, non perdendo palloni stupidi davanti, facendo le giocate facili davanti o riportando la casa per impedire ai loro contropiedisti di partire. Giocando facili, non inventando niente. Se facciamo le cose facili, ci vengono le cose difficili. Io mi sono svegliato abbastanza bene oggi, sinceramente. Mi sono svegliato abbastanza bene, ma vi spiego anche il perché. E adesso vi faccio la domanda tra poco. Quando ti svegli, che sai benissimo a cosa va incontro, perché qua sembra già un patibolo, però i condannati a morte lo fanno una volta soltanto nella vita. Noi già la settima volta in fine che lo facciamo. Sembra già che siamo dati al patibolo. Quando non hai un cazzo da perdere, se lo dico sempre, perso per perso, boh. Io sinceramente, avere la mentalità perso per perso, tutte le volte che l'ho detto ho perso per l'ennesima volta. Quello che mi interesserebbe a me oggi, signorine, è che voi veramente entrate in campo con le unghie, con i denti, con la cattiva determinazione. E per una partita, anche se sarà l'ultima che lo seguite, almeno fate andar via sto cristiano che non c'entra niente con noi, perché non c'entra niente. Fatelo andar via, almeno con un buon ricordo di voi, almeno dicendo, vabbè, quel derby lì potevo anche vincere, me la sono giocata fino alla fine. Oppure, mettiamo in difficoltà la società ed è qui che volevo arrivare. Non dico neanche mettiamo che vinciamo, non dico neanche se è supposizione che è un sogno, anche se bisogna entrare nel campo per vincere. Ma se pareggiamo, che cosa succede a Fonseca? Perché più del problema della vittoria, che mi sembra che le quotazioni nostre, oggi sarebbe da andare a giocare il Milan, oggi è una quota della Madonna, mi è dato a 7 il Milan, sarà dato a 6, a 7. Perché a 6 o 7 Gianni Bianco ha detto 1 o 2, io ho detto 5 o 1 per loro, sulla schedina, con la mia testa io me la vado a giocare. Oggi naturalmente facciamo le live, appena rientro a casa dal lavoro, prepartita subito immediatamente, prepartita subito immediatamente su tutte e due. Su tutte e due, oggi andiamo in all in, su tutte e due, poi ci spostiamo, se riesco a fare l'APC ci spostiamo per la prima volta che magari porta fortuna di quest'anno, ci spostiamo sul rosso, ci spostiamo sul rosso a fare la live del derby. Oggi la voglio fare sul rosso, ci facciamo il viola prepartita tutto il pomeriggio e poi ci spostiamo sul rosso. Stemperiamo giocando un po' la play e dopo ce la facciamo sul rosso, facciamo così oggi, vaffanculo. Facciamo così oggi, vaffanculo, oggi me la voglio giocare così. Oggi me la voglio giocare così. Oggi me la voglio giocare così oggi. Oggi me la gioco così, non me ne frego un cazzo. Ce la giochiamo così ragazzi oggi. Ce la giochiamo così. Perso per perso, prima ci facciamo il viola e poi il rosso. Quindi entro le 6, tenetemi l'occhio su tutte e due. Cambio del mister, parte con un 4-4-2. Ho visto me a giocare alla playstation e sei ingolosito. O sta giocando lui da solo la playstation e sei ingolosito perché quel 4-4-2 a FIFA c'è sempre lì un bucata sulla punta e poi dovesse nel due davanti forti come io che c'ho Osimena e David. E Jonathan David, le cose ti vengono più facili. Quindi poi quando c'hai Junior Vinicius e Sanéi ai lati, viene tutto più facile. Se devi giocare con 4-4-2 vuol dire che Leao deve fare un lavoro della Madonna oggi stile Lukman. Vero Raffaello? Vuol dire che Riders oggi in marcatura dovrà essere perfetto. Vuol dire che Fofanà deve farmi vedere che non è una sogliola ma che può giocare in questa squadra. A2. Giocare a2 oggi col 4-4-2. Vediamo se a2 riesce a esprimersi un po' meglio. Non so che gli dà la copertura quando sale perché mi hanno detto che a lui gli piace salire. Spero che Fofanà non guardi i cervi di montagna quando ci sono gli angoli che abbiamo preso il gol del Liverpool che non marcava nessuno. Io mi auguro che Fonseca abbia preparato sta partita uno contro uno soprattutto sulle fasi di marcature. Mi auguro che Magnassa viene e che non si faccia male. Mi auguro che Emerson Royale ci strappi un sorriso, ci dia una gioia perché fino adesso mio figlio mio, fai cagare. Speriamo che ci strappi una gioia. Come mi auguro che Pulisic si impegna sempre, non entra lì la grande Cristian. Come mi auguro che i due davanti si capiscano visto che pare che veramente giocano con le due punte. Cioè sto qua addirittura si vuole elevare tutte le curiosità del caso, tanto mi cacciano andando via per andare via. Oh fatemi divertire, gioco con i due attaccanti, magari pesco il jolly. Non è sbagliato del tutto il suo ragionamento. Non è sbagliato del tutto il suo ragionamento perché un 4-4-2 copre più il campo. Ma ragazzi sapete che oggi i due attaccanti devono fare i terzini quasi. Cioè sapete che oggi i due attaccanti sono quelli che devono correre di più. Se vuoi fare questo gioco qua con le due punte, i due attaccanti devono correre di più di tutti. Cioè perché davanti hanno un lavoro snervante da fare perché devono bloccare le imbucate loro, devono essere loro i primi ad imbucarle, devono mettersi stretti vicini che fanno sto movimento. Uno e due. Uno e due. Sto parlando della fase difensiva. Uno e due. Poi lasciamo stare che davanti possono fare che cazzo che vogliono perché tanto noi i golli facciamo comunque. Noi almeno un gol a partita lo facciamo, qualcosa ci inventiamo. Ma dobbiamo fare sto movimento stretti vicini, dare fastidio ai due mediani e spostarsi in questa direzione. Fra i loro terzini perché loro hanno la cosa dello scarico, il loro interno che scarica sul laterale e si imbuca dentro. Ecco, come nel calcio 5, la boa si mette in sta posizione così o si mette così, in base a come ha dato il pallone per non par pervenire pallone ai loro centrocampisti. Gli attaccanti oggi con questo modo di giocare ci devono decidere la partita. Oggi la partita, se dovessimo portare il risultato a casa, la si decide sulla fase difensiva. Fa bene a cambiare adesso pensandoci perché dopo tutte le scopole che abbiamo preso con quel modulo, proviamoci, l'abbiamo provate tutte, magari proviamo una che ci va bene. L'abbiamo provate tutte, magari proviamo una che ci va bene. Detto questo ragazzi, se pareggiamo, che cosa succede a Fonseca? Questa è la mia domanda, magari cambiando modulo pareggia e lo tengono. Vabbè, se cambia modulo, azzecca il modulo, magari, chissà mai nella vita. Non si va mai in campo per perdere. Ci vediamo dopo ragazzi, scusate il poco entusiasmo, ma vedendo certe scene a Milanello, me lo fa passare, ma oggi là e lo recuperiamo. Ci vediamo dopo ragazzi, iniziamo a caricarci, dai, su un piedi, su un piedi, su un piedi. Non siamo tutti qua a fare le vittime sacrificali del cazzo, su un piedi. Proviamo a vincere questo cazzo di derby. Dai, raga!